Ci troviamo in compagnia di una responsabile del comitato lotta per la casa di Padova, siamo in Elgo Ascianghi, questa mattina c'è stato il tentativo da parte dell'ufficiale giudiziario di sgombrare una famiglia che resideva in una casa dell'Ater, qual è la situazione? Vedo che c'è anche la polizia presente. Sì, in realtà non è stato un tentativo da parte dell'ufficiale giudiziario, ma è il tentativo dalle 6 e mezza di mattina da parte di 50-60 componenti delle forze dell'ordine, tra Celerini, Nassetto Antisommossa, Digos e Polizia Locale. Niente, quello che è successo è una famiglia che ha occupato una casa dell'Ater, una casa pubblica, che vuole essere venduta come tante case sono e stanno per essere vendute qui a Padova. Era chiusa da 3-4 anni e un anno e qualche mese fa questa famiglia è entrata in questa casa, sostenuta, accompagnata dal comitato lotta per la casa, perché insomma pensiamo che nonostante la legge ci dica che occupare è un reato, sia molto peggio restare senza casa. restare a dormire in macchina e quindi insomma questa famiglia ha preso questo appartamento, si è inserita ottimamente nella vita del quartiere e a distanza di un anno hanno deciso di venire a sgomberare, non c'è stato alcun modo di mediare o di ottenere un rinvio. La cosa peggiore, oltre al fatto in sé che insomma basta, è che le forze dell'ordine hanno minacciato la donna che ha la cittadinanza italiana, di togliergli la cittadinanza italiana, l'hanno accusata che il ragazzo che c'era dentro casa non era suo figlio, l'hanno accusata di togliergli suo figlio, di portarglielo via. insomma queste sono le modalità con cui la polizia opera oggi a fronte di decine e decine di case vuote e centinaia e centinaia di richieste alle case popolari che non vengono ovviamente eseguite. grazie